Sono il coordinatore accademico del progetto internazionale ProLiga in Europa, che è stato compianziato dalla Commissione Europea e dall'Università del Proprio Orientale nell'ambito dell'Azione Giamoni. L'Azione Giamoni fa parte del programma Erasmus Plus dell'Unione Europea. Innanzitutto volevo ringraziare tutti voi ascoltatori per aver trovato un angolo del proprio tempo da dedicare all'incontro di oggi. Volevo ringraziare i relatori d'eccezione che hanno accettato questo incarico con entusiasmo e con vicinanza. Volevo ringraziare il Presidente Piraire per aver accettato questa invitazione a Roma e naturalmente volevo ringraziare il primo Presidente della Corte di Cassazione italiana, Giovanni Mammone, per una serie di ragioni. Per averci invitato qui come rappresentanti del progetto Jean Monnet, ma soprattutto per aver fatto da ponte tra le istituzioni europee e l'Università e in generale la società civile e ancora per aver condiviso fin dall'inizio la latitudine operativa di questo incontro, che vuole essere un seminario interdisciplinare. E interdisciplinarietà non significa multidisciplinarietà. Interdisciplinarietà significa far dialogare i diversi rami del sapere, far convergere studiosi e professionisti che lavorano su materie diverse. Qual è l'obiettivo dell'incontro di oggi? Non vogliamo dipingere un quadro papale alla Velasquez. L'obiettivo è quello di fornire un tentativo di riflessione, un tentativo di sistematizzazione di quel particolare settore del diritto dell'Unione europea che viene definito come protezione degli interessi finanziari dell'Unione. Un settore che è estremamente vitale perché l'IVA, o meglio una quota dell'IVA insieme ai prelievi agricoli e ai dazi doganali, rappresenta una risorsa propria dell'Unione, quindi è vitale per l'esistenza stessa dell'Unione europea. Ed è un settore che ha sviluppato una spiccata trasversalità perché ha comportato l'adozione di misure legislative sia a livello amministrativo sia a livello penale. Anzi, proprio in questo settore si è sviluppato con più rapidità quel nucleo di diritto penale europeo che è alla base del processo di armonizzazione penale e processuale penale in Europa. Si tratta certo di uno sviluppo che non è lineare, lo potremmo definire per saltum. Del resto, Monet diceva che l'Europa vive in crisi e l'Unione europea è costruita attraverso crisi e la crisi è appunto un momento di passaggio non lineare. La strategia antifrode resta comunque una delle principali sfide in campo tributario per gli Stati membri, soprattutto oggi con lo sviluppo dell'economia della conoscenza, con lo sviluppo delle tecnologie digitali. In un'economia che è sempre più mobile, l'expertise non può essere solamente individuale ma deve essere collegiale. Dunque, approfondiremo questi temi da angolature diverse oggi, da professionalità diverse. Ricordo che l'incontro di oggi è il primo di una serie di sessioni congressuali che si terranno a Novara, presso l'Università del Piemonte Orientale, a Bruxelles e a Napoli. Ed è importante che l'Università sviluppi questo tipo di progetti perché un'Università moderna, proprio attraverso questo tipo di iniziative, può proporre agli studenti un modello di apprendimento effettivamente proiettato verso l'applicazione pratica, effettivamente proiettato verso la professionalità. Ringrazio ancora tutti e lascio la parola al primo Presidente della Corte di Cassazione italiana, Giovanni Mammone. Grazie alla Professoressa Girard. Non è la prima volta che la Corte di Cassazione organizza seminari ed incontri sulla materia della tutela degli interessi finanziari dell'Unione Europea. È per la Corte un tema professionale, nel senso che noi abbiamo una sezione penale, la terza sezione penale, la quale cura esplicitamente per sua competenza interna questa materia. La materia delle violazioni penali in materia di diritti fiscali dello Stato italiano innanzitutto, ma ampliando la prospettiva anche dell'Unione. La Professoressa, però, a parte quelle che sono le competenze e le iniziative adottate dalla Corte di Cassazione, ha opportunamente messo in rilievo un'esigenza di coordinamento che esiste tra la legislazione europea e le legislazioni nazionali. Soprattutto per quanto riguarda l'intervento, i soggetti e gli sistemi di tutela adottati a livello europeo e a livello nazionale. È naturale che esistano delle discrasie tra queste due entità, in quanto non solo gli interessi possono essere in qualche modo divergenti, ma anche perché le strategie di intervento e spesso le stesse legislazioni non sono perfettamente coerenti. Allora nasce l'esigenza che ci ha appena detto la Professoressa di sistematizzare i vari sistemi di tutela, cioè di creare dei ponti che consentano di perseguire l'effetto della tutela europea anche tramite le leggi nazionali. Ovviamente con un adeguato coordinamento. Voi tutti conoscete la problematica che è derivata dalla sentenza Taricco, anzi dalle sentenze Taricco, le quali hanno procurato non poco sconcerto, soprattutto la prima, nell'ambito dell'ordinamento nazionale, di fronte a un'affermazione che i giudici, i giudici di Bruxelles avevano ritenuto pressoché naturale dal loro punto di vista. Questo è stato il caso che in Italia ha creato effettivamente un dibattito sulle materie che oggi andiamo ad affrontare. L'Altaricco II, come sapete, ha precisato che gli ambiti nazionali, le tradizioni nazionali, gli ordinamenti costituzionali nazionali, hanno comunque il loro spazio in questo campo di intervento. Penso che questo sarà uno degli argomenti, ho visto dal programma, uno degli argomenti che sarà trattato oggi. Però, diciamo, questa sistematizzazione, come ha detto la professoressa, va costruita. Una cosa è parlare, porre in evidenza i punti di frizione, una cosa è evidenziare le esigenze e una cosa poi è intervenire concretamente sul piano operativo. Voi sapete che a livello europeo c'è un organo, l'Olaf, che è proprio precostituito per adottare strumenti di tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Sapete anche che è allo Stato nascente la Procura europea, che tra le varie sue attribuzioni avrà anche quella di adottare iniziative di carattere, oserei dire, investigativo per la tutela degli interessi finanziari della Unione. In Italia abbiamo un particolare dibattito, proprio in questi giorni e in discussione davanti al Consiglio Superiore della Magistratura, il sistema di attuazione di quel criterio, di questo organismo e il contributo che la giustizia italiana, in questo caso il Consiglio Superiore della Magistratura come organo di autogoverno, è in grado di dare alle strutture dell'Unione Europea, proprio per organizzare questo nuovo ufficio, per organizzare questa che diventerà una delle istituzioni giudiziarie dell'Unione. Quindi sull'argomento abbiamo una particolare attualità dell'argomento. Ecco, un argomento che, devo dire, è tutto in costruzione, su cui, devo dire, abbiamo certezze, ma abbiamo soprattutto necessità di discutere, necessità di approfondire. Alla base di tutto, e questo penso che sia il contributo che i giuristi possono dare, che dovranno dare, è quello però di comprendere l'esatto rapporto tra le fonti. Perché non a caso, dice la professoressa, qui ci troviamo di fronte a un sistema multilivello. Abbiamo l'esigenza di creare delle scale, dei ponti tra un livello e l'altro, proprio per dare luogo a quella sistematizzazione, ma soprattutto per dare attuazioni di carattere operativo nell'ambito degli ordinamenti nazionali della legislazione europea. E qui apriamo un dibattito, apriamo una problematica su cui giornalmente noi giuristi qui in Cassazione, ma negli uffici giudiziari in genere, e penso lo stesso accada in tutta Europa, troviamo a confrontarci, direi proprio giornalmente, quali sono i livelli di tutela che sono ragionevolmente applicabili a livello nazionale. E cosa del livello nazionale trasfonde nel livello superiore che è quello europeo. Su questo argomento penso che abbiamo ancora bisogno di particolari approfondimenti per arrivare a delle certezze, a dei punti fermi. E, ripeto, questo argomento di oggi affronta solamente una sezione della materia, mentre forse tra di noi avremmo necessità di un confronto di carattere più generale. Oggi abbiamo con noi il Presidente Pider della Corte di Cassazione francese. Lui parteciperà e farà da introduzione con una relazione proprio su quest'ultimo aspetto che vi ho segnalato. E cioè cercherà di cogliere quali sono i rapporti tra l'ordinamento europeo e gli ordinamenti nazionali, ovviamente dal punto di vista nazionale francese, per cercare di comporre alcuni passaggi che abbiamo cercato di evidenziare, ma soprattutto per mettere del materiale a disposizione dei partecipanti di questo convegno. Un convegno che comincia oggi, ma sapete proseguirà anche nella giornata di domani. Quindi la mia conclusione è di carattere, diciamo, operativo. Nel senso di dire ci stiamo confrontando su una questione, su un argomento su cui non ci sono certezze. Abbiamo un discorso in fieri, abbiamo un'organizzazione in fieri dell'Europa, quale la procura europea che sta nascendo, si sta sviluppando, la quale avrà bisogno di punti fermi per le sue indagini, ma soprattutto per realizzare in senso concreto la sua funzione. Quindi questo convegno potrà dare sicuramente degli elementi, non solo per diffondere questa problematica, questo tipo di esigenza a livello degli studiosi della materia, ma anche per cercare di cominciare a stringere, di arrivare a delle conclusioni che in qualche modo possono essere utili per il sistema. Il collega francese parlerà in francese. La sua relazione è qui a disposizione, scritta in lingua francese, per chi volesse seguire il testo scritto. La sua relazione però sarà inserita nel sito della Corte di Cassazione da domani. Quindi chi non riuscisse ad avere il testo scritto oggi e da domani lo potrà trovare. A me non rimane altro che augurarvi buon lavoro e vi dico già da ora che alle 16 ho un altro impegno e mi dovrò allontanare. Però fino a quell'ora ascolterò con molto interesse i vostri lavori. Grazie. 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 Grazie a tutti. Vont au premier presidente Giovanni Mamone ainsi qu'au docteur et au professeur Barbara Piatoli Girard pour avoir bien voulu me convier à cette belle rencontre dans le cadre prestigieux de la cour de cassession italienne dont la vaste et imposante silhouette est bien connue de l'amoureux impénitent de la ville de Rome que je suis depuis malheureusement de trop nombreuses années. Avant de débuter mon propos, vous l'avez dit monsieur le premier président et à mon vif regret exprimé en français, je vous prie de bien vouloir me le pardonner je vous transmets, si vous le voulez bien, les chaleureuses pensées du premier président Bertrand Louvel premier président de la cour de cassation française dont je prends un peu la place ici au milieu de vous mais je dois le confesser sans beaucoup de remords. En France comme en Italie, il existe deux ordres de juridiction l'ordre judiciaire et l'ordre administratif à la tête desquels, mais je suis sûr que je ne vous apprends rien sont placés respectivement la cour de cassation et le conseil d'état. Et puis distinctement, mais d'une façon qui est aujourd'hui bien articulée avec les deux hautes juridictions, existe un conseil constitutionnel doté de missions propres, en réalité de missions exclusives et qui a vu son rôle prendre une ampleur toute particulière avec l'apparition d'un contrôle de constitutionnalité a posteriori au fil et à la faveur du litige concret, particulier de la cour.